Un mercato, quello del consumo del pesce, che aumenta ma sempre più in mano alle importazioni. Riparte intanto il fermo biologico della pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana tutto l'Adriatico. Da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è prevista dal 16 agosto al 26 settembre del corrente anno e da Brindisi a Imperia per 30 giorni consecutivi dal 17 settembre al 16 ottobre del corrente anno. Il provvedimento sostiene Coldiretti Puglia viene imposto in un momento difficile per le marinerie che negli ultimi 30 anni hanno perso il 35% delle imbarcazioni e 18.000 posti di lavoro mentre si è progressivamente ridotto il grado di autoapprovvigionamento del pescato. Con il fermo pesca aumenta il rischio, denuncia Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia, di ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture prodotto straniero congelato. Il settore soffre la concorrenza sleale del prodotto importato dall'estero o spacciato come italiano, soprattutto nella ristorazione, grazie all'assenza dell'obbligo di eticattatura dell'origine. Ad oggi, infatti, l'unico strumento per invertire la crescente dipendenza italiana dall'importazione, che ha superato il 76%, è rappresentato dall'acquacoltura, che invece viene penalizzata dalla mancanza di certezze e da una grave assenza di norme che ne consentano lo sviluppo. La proposta di Coldiretti Impresa Pesca è quella di differenziare il blocco delle attività a seconda della specie, mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 ottobre. Il valore economico della pesca è l'1% del PIL della Regione Puglia e arriva fino al 3,5% se si considera l'intero indotto, che conta 1.500 imbarcazioni, 5.000 addetti, 10 impianti di acquacoltura e mitilicoltura. Grazie. Grazie. Grazie.